Cominciamo il nostro tour tra gli stand di Trasport Technology Tech 2024 da qui, da WDO. L'azienda del gruppo Continente è impegnata nell'ottimizzare la gestione delle flotte attraverso uno strumento che accompagna la vita quotidiana dell'autotrasportatore, il tachigrafo. Uno strumento che oggi non è più solo un mero registratore dei tempi di guida, ma che nella sua ultima versione smart, grazie a WDO, è in grado appunto di supportare il lavoro dell'autista. Possiamo dunque dire che WDO è sicuramente protagonista del processo di digitalizzazione del nostro settore e qui a Trasport è con la testimonia attraverso una serie di iniziative e appuntamenti molto importanti. Ne parliamo con Alessio Citran, responsabile dello sviluppo e delle relazioni istituzionali di Continente al WDO. Alessio, buongiorno. Abbiamo parlato del vostro impegno qui a Trasportec. Quali sono le iniziative e gli appuntamenti che porterete avanti in questi quattro giorni? Allora, l'edizione 2024 del Trasportec rappresenta innanzitutto per noi il momento ideale per sottolineare l'importanza del tachigrafo, soprattutto il tachigrafo intelligente, sempre più piattaforma di gestione intelligente per l'appunto dei dati, in un contesto di fortissima digitalizzazione, di rinnovata governance dell'attività di trasporto e dell'azienda di trasporto. Oggi noi parleremo di questo grazie anche per esempio agli interventi che avremo nel pomeriggio della giornata odierna, in occasione dell'evento organizzato con l'albo dell'autotrasporto, dove con autorevoli esponenti del mondo della tecnologia, del veicolo e della polizia stradale andremo a raccontare quanto sia cambiato il mondo del tachigrafo e di quanto il tachigrafo possa essere uno strumento di sostenibilità competitiva per l'azienda dell'autotrasporto.